Perché ci facciamo condizionare dal giudizio degli altri e come smettere? Tutti in maniera più o meno forte siamo condizionati dal giudizio degli altri. Fa parte della nostra natura e fa parte della nostra natura perché è così da tantissimo tempo, evolutivamente parlando, fin da quando i nostri antenati si organizzarono in tribù, il giudizio degli altri rappresentava un po' il modo in cui una persona veniva accettata all'interno della tribù, veniva definito il suo ruolo e chiaramente essere giudicato male dalla tribù perché non ci si comportava nella maniera ritenuta giusta, poteva voler dire l'allontanamento dalla tribù stessa e dunque un grandissimo pericolo di non sopravvivere, perché sopravvivere da soli in un mondo selvaggio era ovviamente più complicato che sopravvivere all'interno della tribù. Quindi la nostra mente si è un po' abituata ad essere condizionata in qualche modo dal giudizio degli altri. È molto difficile che noi riusciamo a fare qualcosa disinteressandoci completamente dell'effetto che questa azione avrà sugli altri e su ciò che gli altri effettivamente penseranno di noi. Però ci sono perlomeno due modalità differenti di essere condizionati dal giudizio degli altri. Una direi che è naturale e fisiologica e cioè è la situazione in cui tu agisci, ti comporti in un determinato modo e poi verifichi l'effetto dei tuoi comportamenti sugli altri e magari anche ne trai del giovamento perché alcune critiche, alcune reazioni possono portare ad un miglioramento. La seconda situazione è quando invece tu agisci o non agisci in funzione di ciò che ti aspetti gli altri effettivamente pensino della tua azione. Quindi una situazione è io agisco, non mi pongo troppi problemi, poi però valuto che reazione i miei comportamenti hanno suscitato negli altri. L'altra situazione è mi blocco, quindi non agisco per paura del giudizio altrui oppure agisco ma facendo qualcosa che non è esattamente quello che vorrei fare ma è quello che io penso possa andare bene per gli altri. Ovviamente sono due situazioni molto differenti perché una situazione come dicevo è piuttosto naturale e non condiziona in maniera sistematica le tue azioni, tu agisci credendo in ciò che fai e sulla base di ciò che ritieni giusto e poi correggi il tiro in funzione delle reazioni degli altri. Nel secondo caso invece siamo in una situazione molto diversa, una situazione che condiziona pesantemente le tue scelte, i tuoi comportamenti o perché ti comporti in un modo appunto che tende a ricercare l'approvazione altrui o perché non agisci, non scegli, non fai niente per paura che gli altri reagiscano in maniera negativa nei tuoi confronti. Beh, è ovvio che il grado di condizionamento che il giudizio degli altri ha sulle tue scelte e sulla tua vita ha molto a che fare con quanto sicuro sei di te stesso. Meno sicuro sei di te stesso, meno esperienza hai fatto nel corso della tua vita che confermano che le tue scelte sono valide, che sei capace e più sarai soggetto all'influenza del giudizio altrui. Quindi la chiave per smettere di essere così suscettibili a ciò che pensano gli altri in realtà è lavorare su se stessi e rafforzare la propria autostima, la sicurezza in sé in modo tale non da fregarsene completamente di che cosa pensano gli altri perché questo, ripeto, è quasi impossibile ma semplicemente fare in modo che non diventi qualcosa che condiziona le tue scelte, i tuoi comportamenti ma semplicemente una cosa che a posteriori valuti per capire quanto ciò che fai viene apprezzato, diciamo, dagli altri. E legato a questo c'è un aspetto fondamentale, molto importante che è quello di riuscire, di imparare ad apprezzarsi, a volersi bene anche quando gli altri non ci apprezzano, non ci applaudono, non dicono che bravo che siamo perché in fondo questo è molto connesso con il concetto di amor proprio se io mi voglio bene ci tengo che le mie azioni, i miei comportamenti siano apprezzati dagli altri ma se non sono apprezzati non cambio il giudizio su me stesso continuo a volermi bene, continuo a chiedermi come posso migliorare ma non mi punirò semplicemente perché gli altri mi hanno detto che quello che ho fatto non gli piace. E la cosa interessante è che la fiducia in sé stessi, l'amor proprio, l'autostima sono tutti allenabili perché in fondo sono frutto delle esperienze che abbiamo fatto nel corso della nostra vita e della modalità con cui le abbiamo interpretate quindi lavorando su esperienze che ci rafforzano, su sfide vincibili su un percorso di crescita che ci porta ad affrontare cose più complesse possiamo sicuramente rafforzare la nostra autostima e lavorando in parallelo su come interpretiamo anche le sconfitte, i momenti difficili possiamo trovare sicuramente delle nuove modalità interpretative che sono più benevole nei nostri confronti invece che essere molto giudicanti e supercritiche. Se ti interessa capire di più come si allena la fiducia come puoi aumentare la stima in te stesso trovi nella descrizione qui sotto un altro video che parla proprio di questo argomento. In ultima analisi voglio dirti lavorare sulla propria autostima e sulla fiducia in se stessi non vuol dire trasformarsi nell'ennesimo personaggio arrogante e borioso ma semplicemente arrivare a capire con molta umiltà che non sei peggio di nessuno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!